Divieto di spostamento tra regioni, soglie dell'indice RT più basse, il rientro in classe alle superiori posticipato 11 gennaio. Queste le principali novità contenute nel decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri la scorsa notte. Il testo prevede per il periodo compreso fra il 7 e il 15 gennaio il divieto su tutto il territorio nazionale di spostarsi fra regioni diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Esclusi, spiega la nota diffusa da Palazzo Chigi, gli spostamenti verso le seconde case ubicate in alta regione o provincia autonoma. Sabato 9 e domenica 10 gennaio verranno applicate su tutto il territorio nazionale le misure previste per la zona arancione. Saranno consentiti negli stessi giorni gli spostamenti dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti entro 30 km, esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Il testo, scatuito dal Consiglio dei Ministri, conferma fino al 15 gennaio nei territori inseriti nella zona rossa la possibilità di spostarsi una sola volta al giorno, massimo due persone, verso una sola abitazione privata nella propria regione. Chi si sposta può essere accompagnato dai figli minori di 14 anni, da persone disabili o non autosufficienti con le quali si convive. Il decreto legge qui sta una delle novità, rivede i criteri per individuare gli scenari di rischio sulla base dei quali vengono applicate le misure previste per le zone arancioni o rosse. In sintesi, si è in zona gialla quando l'RT è sotto l'1, si passa la fascia arancione quando l'indice RT è sopra l'1, il rosso scatta con indice superiore a 1,25. L'epifania sarà giorno rosso, giovedì 7 e venerdì 8 gennaio saranno gialli, quindi i bar e i ristoranti saranno aperti alla clientela fino alle 18, dopo le 18 per asporto i consigli di domicilio. Il 9 e 10 gennaio saranno arancioni, dall'11 scatterà la divisione in fasce in base ai nuovi parametri. Il testo incide anche sul mondo della scuola. Se il 7 resta confermato per elementari e medie come primo giorno di ritorno sui banchi, l'attività in presenza dei superiori per il 50% degli studenti scatterà da lunedì 11.